A presto stasera è tutta salata, hai la mamma di pata, che nella teglia non si scivola la mamma. Invece abbiamo messo gli spinaci e noi ve lo avevamo detto. Adesso andiamo a mettere dentro il forno e ci vediamo per la prova della scaccia. Complettiamo l'operazione e ci mettiamo la scaccia e spoglia. Prendendo cura dei dettagli, ci faremo poi dei buchini di sopra. Sì, la sistemiamo per la semata, per la semata. Di dentro ci abbiamo messo i spinaci, l'uovo. Poi non lo so perché l'ho messo qua, la faccio vedere mia moglie. Non so cosa ci ha messo. Adesso mi faccio informare che cosa ci abbiamo messo, l'uovo, non vuole parlare. Manco se l'ha pagata a pesatore o palla mia moglie. Va bene, poi vi lo dico cosa ci ha messo di dentro. Buona tirata ragazzi, buona tirata torta. Adesso ci diamo una bella pennellata d'uovo. Allora di dentro cosa ci abbiamo messo? A parte le spinaci poi? Niente, ti posso inguadrare. Adesso inguadra mia moglie. Niente, non vuole parlare. Allora spinaci poi? Palla, non ti mangiare nessuno, non ti vede nessuno. Niente ragazzi, niente. Ci ho provato, ci ho provato. Mi dispiace. Poi me lo faccio dire ad inascosto e ve lo dico. Allora spinaci poi? Niente ragazzi, buona tirata. Eccola la torta salata. E la parma divata. E mi chiedo ricotta e un po' con le latte. Questi sono gli ingredienti della nostra torta salata. Eccola, che non sto parlare. E lo sto... Sono... Glorando. Sono un gafone, che non sto a mangiare. Non sto a mangiare bene. E che se ne frega? Che se ne frega? Questa sera... La torta salata. E la torta salata. Dammi una pochetta. Per favore, una pochetta. Calda. E' calda. Volevo prendere una mano. Com'è com'è. La torta salata. Ricotta. Spinaci. Con mezzo, per mezzicino. E un po' di latte. L'ovo, ci metto pure. Buon pranzo, no? Buonecina. La pittura è buonecina. Com'è com'è. Capole. E' calda. C'è calda. E' calda. Internazionale veramente. Buona cena a tutti. Ora facciamo la prova dell'attaggio. Forza ragazzi. È una ora e ora. Forza. Come? Come? Faizzo. sicuro come si chiamano macarons e come sono internazionali posso assaggiare uno buona serata ragazzi ma fammi vedere un mio che assaggio uno me lo levo legiale ne prendo uno ma che non c'è cioccolato e me lo vado del nazionale guarda non mocca buona serata ciao